Ciao e bentornato su Impara da Vinci Resolve e bentornato nei tutorial dedicati alla Color Page. Oggi continuiamo a parlare di colore della pelle andando ad analizzare insieme un metodo manuale appunto per correggere gli skin tones. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Ti ricordo inoltre di salvare e seguire la playlist dedicata alla Color Page. Oggi facciamo insieme un'esercitazione completa sulle skin tones ma completamente in manuale. Quindi non farò uso degli OpenFX, pertanto tutto quello che dirò oggi potrà essere seguito tranquillamente sia da chi ha la versione free sia da chi ha la versione a pagamento. Ho attivato il Color Management in Wide Gamut di Resolve su questa clip. Se non hai il Color Management attivato dovrai se hai ad esempio delle clip in log convertirle con delle lata di conversione. Apri il pannello lata e se hai girato in log su una Blackmagic puoi utilizzare uno dei tanti profili di conversione già caricati all'interno di Resolve. Se hai girato ad esempio con una GH5 puoi applicare la lata di conversione dal V-Log. Se hai girato ad esempio con delle macchine Sony puoi utilizzare uno dei tanti profili S-Log per convertirli in REC709. Quindi partiamo direttamente da questa clip. Ecco tengo a precisare che le operazioni legate alla pulizia degli skin tones non rappresentano una scienza esatta quindi non c'è una procedura corretta valida in tutte le situazioni. Dipende dalla clip che hai a disposizione, dalla tipologia del girato. l'unica vera discriminante è il risultato finale. Quindi se hai ottenuto il risultato conforme a quello che ti aspettavi allora la procedura che hai seguito è corretta. Quindi quello che affronterò oggi sarà una delle tante possibilità specialmente legata a questa tipologia di clip che sto utilizzando oggi ma che potrà essere replicato anche chiaramente in altre situazioni. Innanzitutto facciamo una correzione primaria quindi prendo questo primo nodo vado a cambiare l'etichetta e lo chiamo primaria. E qui facciamo degli interventi veloci. Quindi abbassiamo tutta la saturazione per controllare meglio il contrasto e andiamo a dare un po' di contrasto a questa immagine. Quindi andiamo sulle curve e lavoriamo qui. Perfetto. Poi tiriamo sulla saturazione di nuovo. Andiamo a controllare il vettorscopio. Vado sugli offset lo centro un pochino verso in magenta per avere una distribuzione centrata sull'origine e poi abbasso un po' la saturazione. Ok questa è la mia primaria. Accendiamo e spegniamo. Siamo partiti dal di qui e abbiamo sistemato la clip in questa maniera. Magari gli diamo anche un po' di mid tone detail. Adesso andiamo a mettere un nuovo nodo quindi aggiungiamo un nodo add node add serial lo chiamiamo skin. La correzione delle skin tones riguarda la correzione colore secondaria quindi dovrò basarmi su una chiave di selezione per andare a selezionare la porzione di aria da correggere cioè il volto in questo caso. Quindi dovremo utilizzare uno dei tab per correggere le secondarie presenti all'interno della core page. Quindi vado sulle curve curve vado a prendere però le curve solamente di tonalità perché la mia chiave di selezione è rappresentata dal colore della pelle. Quindi vado a prendere la curva tonalità tonalità cioè la chiave la tonalità e poi vado a correggere la tonalità. Allora come prima cosa però andiamo sugli scopes. Adesso questa è un'operazione che io ho già fatto. Se tu non l'hai fatta vai sui settings quindi sulle impostazioni e vai a mettere il check su show 2x zoom e su show skin tone indicator. Mettendo il check su queste due la prima allarga la visualizzazione del grafico del vetroscopio. La seconda invece mi rappresenta la linea delle skin tones quindi le mie skin tones devono stare esattamente qua dentro. Una volta che ho questa visualizzazione all'interno del vetroscopio vado a farmi la mia selezione. Ad esempio vado a prendermi questo punto e vedete che lui mi identifica un'area dove è presente il colore della pelle. Con ogni probabilità è quest'area qui dove c'è questo picco perché c'è una maggiore concentrazione. Cominciamo a vedere se questa è l'area interessata prendo il mio punto e lo porto verso il basso. Vedete che sta virando sul verde lasciando dei margini. Questi margini li andiamo ad allargare e correggere trascinando le maniglie. Quindi prendo sulla destra e poi vado sull'altro punto e mi trascino per andare a riempire. Vedete tutta la sezione. Ok sto prendendo praticamente tutta la mia area e adesso cosa faccio? Riporto il mio punto a zero. Voglio andare a vedere come è messa questa parte a livello di skin. Per controllo vado sulle power window, vado a prendermi una maschera circolare, me la restringo il più possibile e me la porto in una zona dove ci sono solo le skin tones, cioè questa. Attivo gli highlights e adesso qui posso vedere esattamente dove sono le skin tones. Vedete che sono leggermente sui rossi. Quindi cosa faccio? Vado sulle mie curve, prendo il mio punto e mi porto verso il basso. Per raddrizzare vedete che questa curva si sposta. Ecco deve essere proprio lungo la linea delle skin tones. Quindi vedete che le correzioni non devono essere troppo invasive ma mi sono portato sotto di meno 0,80. Quindi basterebbe questo punto per mettere a posto le mie skin. Dal punto di vista della tonalità. Ora dobbiamo fare la stessa cosa sulla luminosità e sulla saturazione. Quindi vado sulla power window, la spengo per il momento. Ritorno sulle curve ma invece di scegliere U vs U vado a scegliere U vs Saturation. Vado a prendere sempre il mio punto, mi allargo con le aree di lato e alzo leggermente la saturazione del volto. Ok. Diamo un tocco di saturazione al volto. Poi andiamo su un'altra curva e andiamo su U vs Luma. E anche qui facciamo la stessa procedura. Quindi prendo un valore di Luma. Cerco di prendere tutta la mia area interessata che probabilmente vedete questa campana qui. Mi allargo per prendere tutti i possibili dettagli e qui ad esempio gli diamo un tocco anche di luminosità in più. Accendiamo e spegniamo. E questo è l'intervento fatto sulle skin. Se vuoi escludere perché magari è presente una breve selezione anche su questa parte si può andare ad aggiungere una power window tracciando esattamente le parti che compaiono man mano. Quindi posso andare a isolare esattamente questa regione per non fare comparire dettagli su altre parti. Ma vediamo un approccio invece un po' più completo. Quindi resettiamo tutto il nostro nodo di skin. Invece di utilizzare le curve U utilizziamo il qualifier. Quindi vado sul qualifier. Vado a selezionarmi la zona, la porzione che mi interessa. Andiamo a vedere com'è la prima selezione. Vedete più o meno ci siamo. Non preoccupiamoci se ci sono le labbra o le sopracciglia eccetera perché poi vedrete che può dare un risultato migliore quando andremo a effettuare il grade. L'importante è che mettiamo a posto il colore della pelle. Ci disegniamo una power windows diciamo lineare e andiamo a prenderci proprio le skin tones. Andiamo a vedere. Vedete è leggermente verso il rosso quindi posso andare sugli offset e spostarmi leggermente sulla linea delle skin tones. Quindi una leggerissima correzione. Posso eventualmente enfatizzare un po' il mio colore. Se vado a vedere la correzione è veramente minima rispetto al resto. Adesso possiamo anche eccestinare la power window. Posso però dare ad esempio un po' di sat. Ok quindi enfatizziamo un po' la saturazione. Bene una volta che abbiamo sistemato il colore della pelle andiamo a fare il nostro look, il nostro grading. Quindi applichiamo un nodo. Node label ad esempio qui facciamo contrasto. Quindi andiamo a lavorare sui contrasti e qui andiamo sulle curve. Curva luminance quindi senza toccare i colori diamo un po' di contrasto alla nostra immagine. Quindi spegniamo la parte delle ombre e accendiamo quella delle highlights. Adesso magari forse un po' un filino meno. Ok. Aggiungiamo un altro nodo. Add Serial e lo chiamiamo grade. Grade. E qui ad esempio lo facciamo virare a un ciano o azzurro ciano. Per farlo andiamo sempre sulle curve. Stavolta andiamo sul rosso. Siccome devo fare un ciano devo abbassare il rosso specialmente ad esempio sulle ombre. Quindi vado sulle ombre e mi sposto leggermente verso il basso. Poi chiaramente darò del blu. Quindi vado a accendere un po' di blu sulle ombre. Ok. Poi andiamo sul verde e diamo un po' di verde sulle alte luci. Per creare questo look un po' particolare. Bene. Ma qual è il problema grosso? Il volto viene completamente alterato. Quindi le skin tones che avevamo fatto prima vengono completamente modificate dal grade che avevamo fatto in primaria su tutta l'immagine. Devo andare a escludere quindi il volto. Andarlo a mascherare. E utilizziamo un nuovo nodo che si chiama Layer Mixer. Proviamo ad applicarlo. Andiamo sul nodo di grade. Tasto destro. Add node. Add layer. Viene creato. Vedete un nodo che prende due ingressi e viene buttato fuori sull'uscita. I due ingressi lavorano in layer. Cioè questo qui. Quello sotto. Copre quello sopra. In effetti. Vedete quello sotto. Viene dall'uscita del contrasto che non ha il grade. Ho solo dato un po' di contrasto che mi va a coinvolgere chiaramente anche il volto. Quindi devo andare a utilizzare lo stesso canale alpha che ho utilizzato per ritagliare le skin. Fatto con il qualifier. E quindi prendo la mia uscita da uscita masca e la collego all'ingresso masca di questo livello. Vedete che qui ci sono degli artefatti molto visibili sui bordi. Quindi selezioniamo il nodo 5 nel node editor e attiviamo il tab key. E vado a lavorare ad esempio sull'uscita della chiave. In modo tale che l'applicazione della chiave data dal canale alpha sia meno forte. Quindi vado in key output e vedete che comincio a scendere. Fintanto che trovo un bilanciamento corretto senza avere delle grossi artefatti. Ok. E questo è il mio grade. Ho mantenuto il colore della pelle anche se utilizzando una key output prende un po' di tonalità ciano come giusto che sia ma senza essere troppo invasivo. Questo è il mio grade e questa era la mia clip originale. L'appuntamento è a domani per il prossimo tutorial sempre all'interno di Imparo Da Vinci Resolve e la settimana prossima per continuare la formazione sulla color page di Da Vinci Resolve. Grazie.